Allora siamo pronti per l'atto? Caffettino preso, quindi caffettino pre-atto, dopo andiamo a fare l'aperitivo post-atto, allora. Ok, andiamo. Eccoci qua, Maria MD Immobiliare con... Salvatore Liguoro, oggi trovo casa. Benissimo, oggi facciamo una vendita in collaborazione, quindi due agenzie che si uniscono per portare a casa il risultato migliore per il venditore e per l'acquirente. Giusto? Giustissimo. Saliamo sopra, che ci stanno aspettando? No, andiamo. Un attimino di pausa perché abbiamo, il notaio ha letto l'atto e adesso l'acquirente sta leggendo il mutuo con il notaio. Quindi adesso la prima fase è terminata, quindi siamo usciti fuori per una boccata d'aria. Emozionati? No. Tranquilli allora, dai. Aspettiamo tranquilli, assistiti proprio il mutuo e per tutto. Bene. All'agenzia e è nella norma, tutto è nella norma. Perfetto, allora aspettiamo un attimino e poi rientriamo. Questa è appa. Luigi, è emozionato? Eh sì. Il cuore a quanto va? Il cuore a quanto va? Do we? Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Grazie a tutti.